Ciao, sono Francesco, il preside. Questa è la mia scuola, questi miei studenti e la maestra. Questo sono io in vacanza, mentre penso alla scuola. Per fortuna ci pensa anche S.Lunga. Con 25 euro o 50 punti fragola, riceverete un buono scuola da regalare a chi volete. Grazie a potenti mezzi, finalmente la nostra scuola potrà essere più moderna e tecnologica. Diventate anche voi Amici di Scuola. Scoprite come su amicidiscuola.com